allora buongiorno a tutti oggi abbiamo parlato di Sicilia, abbiamo appuntato su questa ragionata in corso con Patrizia Gattacega, il nostro professore Giacomo Cierre, abbiamo parlato di pareti aspetti della cultura siciliana, la lingua, un po' di una presentazione storica e dopo la letteratura e infine la canzone. Allora la parola a Luca Antoine Carlini che ci ha da presentare l'isola. Quindi aiuta a presentare appena l'aspetto geografico di Sicilia, c'è l'isola più grande del Mediterraneo, 25.000 km2 per quasi 5 milioni di abitanti, Fagge è una popolazione di poco presso 200 abitanti al km2, contro 32 di Paragorsica. E' una regione autonoma dell'Italia, la lingua ufficiale è italiana, ma ha una lingua parlata e scritta. 90% della popolazione parla a tempo siciliano e italiano. L'isola è abbastanza conosciuta soprattutto per via dei suoi vulcani, non c'è l'Etna, non l'isola principale, Ustromboli e vulcano in dell'isola euliana che fanno parte di Sicilia. Possiede un patrimonio architetturale e culturale di una ricchezza molto grande e ciò che ne fanno è un'isola abbastanza turistica. L'isola più grande e un'isola Excusez- yo Grazie a tutti.